Sara Bini, funzionaria archeologa per la soprintendenza. Perché è importante ogni anno scoprire l'esito degli scavi che vengono effettuati nel sito delle antiche mura di Jesolo? La ricerca archeologica svolta in regime di concessione ministeriale per noi è fondamentale perché sono i momenti in cui anche il nostro ufficio ha la possibilità di conoscere in maniera più approfondita il territorio e la conoscenza approfondita del territorio porta come conseguenza anche una migliore pratica di tutela che è ovviamente la principale funzione dei nostri uffici, delle soprintendenze territoriali. Inoltre gli scavi svolti a Jesolo, così come tanti altri scavi svolti nel territorio di nostra competenza che ricordo è la Laguna di Venezia e la Gronda Lagunare ci permettono anche di capire meglio le dinamiche insediative antiche di tutto il territorio non soltanto del comprensorio di Jesolo ma mettere Jesolo anche in connessione con i comuni vicini la cui ovviamente distinzione amministrativa è moderna ma che una volta comprendevano un territorio molto più vasto e che grazie proprio a queste ricerche, grazie al supporto delle università che invece come mission principale hanno la ricerca ci permettono di conoscere appunto non soltanto un singolo sito ma più siti e più territori che ci permettono come dicevo appunto anche di svolgere una migliorazione di tutela.